gentili telespettatori buona giornata reddito di cittadinanza verrà parzialmente smantellato parzialmente attenzione non verrà cancellato ma parzialmente smantellato a cosa accadrà chi perde questo mantenimento dello stato e l'appuntamento è oggi al consiglio dei ministri dopo le 17 si riunirà il governo per varare definire la finanziaria chiamata anche legge di bilancio ci sono un sacco di problemi perché non ci sono i soldi e tutti i partiti vogliono mettere le bandierine fatto 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 invece non c'è da fare proprio niente perché i soldi non ci sono e così il presidente della commissione bilancio dice sul reddito di cittadinanza nessuno ha mai parlato di abolizione dall'oggi al domani sono interpretazioni malevole noi abbiamo sempre detto che le misure in favore di chi non può lavorare vanno mantenute e addirittura potenziate ma che è necessario mettere subito in campo misure che consentano i cosiddetti occupabili e trovarsi a trovarsi un posto di lavoro e questo non avverrà fin tanto che garantiremo loro un sussidio senza condizioni senza nemmeno sanzionare chi rifiuta le offerte che pure arrivano che non arrivano parliamoci chiaro poi aggiunge un bilancio di forte discontinuità liberale di buon senso con un obiettivo preciso affrontare le conseguenze del caro energia su cittadini aziende riduciamo la pressione fiscale per tutti detassiamo le nuove assunzioni estendiamo la flat tax approviamo la pace fiscale il volgare condono salviniano aumentiamo le pensioni di coloro che si trovano in maggiore difficoltà c'è un aumento delle pensioni al momento momento non confondiamo le cose volutamente c'è l'aumento delle pensioni che è automatico per l'aumento delle inflazione quindi che stiamo aumentando le pensioni non è vero c'è un adeguamento automatico aumentare le pensioni è un'altra cosa non raccontiamo storie di babbo natale mentre sul reddito di cittadinanza interviene il leghista durigon padre di quota 100 dice ecco come cambia il reddito di cittadinanza chi prende soldi pubblici non può rifiutare le offerte di lavoro basta con la ricetta 5 stelle dei soldi a pioggia e l'autonomia differenziata può partire subito l'autonomia differenziata non parte subito perché la melonia ha detto dopo con le altre riforme forse sempre garantendo l'unità nazionale quindi caro durigon abbassa la cresta che l'autonomia non parte subito e poi ha spiegato quali sono le modifiche del reddito di cittadinanza chi può andare a lavorare deve farlo anche se l'offerta è per pochi giorni e pochi giorni di lavoro non compromettono la percezione del reddito in quota parte nello stesso tempo sarà fornita formazione adeguata per rientrare nel mondo del lavoro allora intanto i navigator li hanno licenziati tutti quindi se poteva arrivare un'offerta di lavoro che tanto già anche prima non arrivava oggi tanto meno avete visto che in tutti questi anni di reddito di cittadinanza i lavori trovati dai navigator sono stati più o meno 500 persone 500 persone su tre milioni e mezzo che hanno reddito quindi vuol dire che il navigator non ha mai trovato nessun lavoro a nessuno 500 persone su tutta quella cifra in tutti quegli anni tutti quelli che invece hanno trovato lavoro non trovato lavoro da soli non perché qualcuno di del qualcuno del reddito gliel'ha proposto l'hanno trovato da soli hanno abbandonato il reddito volutamente i grillini cosa fanno dicono eh no eh guarda che sono 100.000 200.000 le persone che hanno trovato lavoro sì ma l'hanno trovato da solo lavoro non c'entra niente il reddito di cittadinanza avevano reddito e hanno deciso che era il caso di trovarsi un lavoro quindi non confondiamo il lavoro offerto dai navigator le famose tre proposte solo 500 persone dal primo giorno che che è nato il reddito le altre persone se lo sono trovate da solo da sole pertanto le famose offerte non arriveranno a nessuno anche perché i navigator li hanno tutti licenziati le offerte non arriveranno a nessuno quindi nel problema non è chi ne rifiuta una due o tre è che non c'è nessuna offerta punto primo e poi eh formazione adeguata per rientrare nel mondo del lavoro questa era già la proposta dei grillini che poi nessuno ha potuto fare perché perché i comuni dicono come io ho 100.000 nel mio comune che hanno reddito dovrei fare il corso di formazione a 100.000 persone e chi paga i professori per fare questi corsi chi paga i comuni non hanno soldi dicono noi non non facciamo nessun corso di formazione perché non abbiamo da assumere nessun professore per fare questi corsi ecco anche qui bisogna dire le cose come stanno e poi dice ci troviamo di fronte a una platea con bassa scolarizzazione la parte che riguarda i lavoratori occupabili subirà senz'altro un ridimensionamento una fase di transizione che poi porterà all'abolizione in realtà non c'è nessuna abolizione abolizione vuol dire che il reddito di cittadinanza viene cancellato abolito in realtà no verrà tolto a chi è in età lavorativa e verrà lasciato con un altro nome a tutti quelli che non possono lavorare quindi che porterà all'abolizione anche questa qui è un'altra frottola insomma come vi dicevo a me le storie di babbo natale non le raccontano ecco raccontatele a chi volete raccontatele ai giornali raccontatevele a voi stesse raccontatevele al vostro elettorato ma a me luca vincitore le storie di babbo natale no ho smesso di credere alle storie di babbo natale dei politici da molto tempo quindi vi ho chiaramente detto che fatto vedere che molte cose che raccontano questi politici sono messe a favore di giornalisti di telecamere parole che non sono corrette porterà all'abolizione non è vero ci saranno dei corsi di formazione ma chi li paga e dai se rinunciano a un'offerta andranno a casa ma nessuno non c'è nessuna offerta quindi avete visto che nelle dichiarazioni di questo durigon quasi tutto è da scartare molto poco rimane delle sue dichiarazioni di reale di reale tutto il resto è propaganda ci hanno votato per abolire il reddito poi arriviamo al governo e non lo aboliamo è così è la vita a parte che nel programma del centrodestra non si parlava di abolizione del reddito ma si parlava di modifica parliamoci chiaro grazie a tutti per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti ricordatevi che c'è te l'italia seconda rete dove trovate video di politica notizie fai da te poi c'è anche c'è anche l'altro canale che si chiama in cucina con carla e l'altro un altro ancora che si chiama tutorial uncinetto grazie a tutti e arrivederci a presto grazie a tutti